Giorno 537. Dopo che gli ucraini sono riusciti a rompere la resistenza russa di fronte a Oleski e a stabilire una solida testa di ponte, hanno spostato la loro attenzione nella parte nord della regione. Il loro obiettivo principale era quello di scacciare i russi dalla parte est del fiume, ottenere quanti più punti d'appoggio possibili e stabilire le condizioni per un attacco con basi più solide. Le prime azioni ucraine sono state atte a minare le difese russe in questa sezione del fronte. Giorocalizzazioni mostrano che ci sono state enormi esplosioni a Nova Kaovka. Più tardi gli ufficiali ucraini hanno confermato la distruzione di un posto di comando russo, cosa estremamente importante in quanto da lì controllavano l'intera regione. Successivamente gli ucraini hanno cominciato a bersagliare le riserve russe. Eliminandole, gli ucraini si stavano assicurando che i russi non potessero reagire a sviluppi inaspettati. I droni da ricognizione hanno individuato colonne russe che si muovevano nella regione e le truppe ne hanno approfittato per rintracciare ed eliminare i rinforzi. Il successivo passo più logico è stato distruggere depositi di munizioni. Il primo obiettivo è stato quello vicino a Krinki, ma quelli più importanti sono avvenuti vicino a Oleski. Due depositi sono stati distrutti con un colpo solo e l'esplosione è stata così grande da indicare la presenza di numerose munizioni ed equipaggiamenti. Dopodiché gli ucraini hanno valutato la situazione e individuato un punto debole nelle difese russe vicino a Kozachi, la Eri. Geolocalizzazioni mostrano che gli ucraini hanno rintracciato ed eliminato unità di ricognizione russe che operavano nella regione, diminuendo significativamente le informazioni che i russi ricevevano da questa zona. Secondo fonti ucraine, i russi in queste azioni hanno perso circa 17 soldati, compresi alcuni ufficiali. Gli ucraini hanno anche condotto intense preparazioni d'artiglieria sulle posizioni russe dentro e intorno al villaggio per diminuirne le difese. Infine hanno lanciato una serie di attacchi con droni kamikaze, bersagliando chiunque fosse rimasto nelle trincee. A tarda notte gli ucraini hanno condotto un'operazione anfibia e attaccato le posizioni russe nella parte est del fiume. Secondo alcune fonti gli ucraini hanno usato 7 barche e 50 soldati in totale, comunque abbastanza per sfondare la linea difensiva e avanzare di circa un chilometro in poche ore. L'avanzata è stata così rapida da non permettere al comandante russo di capire cosa stesse succedendo e come si è presentato per controllare che fine avessero fatto le proprie truppe e stato catturato insieme a loro. Gli ucraini stavano causando disturbi nelle comunicazioni russe, cosa che ha permesso loro di catturare velocemente posizioni, soldati e un comandante di battaglione. Se abitate in Italia potete ora mostrare la vostra solidarietà alla situazione ucraina con i nuovi prodotti rappresentanti bandiere doppie, ora sistemate, che potete controllare cliccando il link in descrizione. Anche per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.